Alla mia destra ho Giuseppe Canforo, alla mia sinistra ho Giovanni Cocca. Quello che succederà questa sera lo potrete vedere già adesso in diretta su sarnonotizie.it, su radiobase.fm e sulla redazione.eu e in differita alle 21 domani sera, mercoledì, chiedo scusa, giovedì 6 giugno. Per chi ovviamente non ci può vedere, invece chi ci può vedere qua ho due fogliettini, anche grazie alle persone che stanno qui davanti a noi per essere, come dire, presenti questo bel appuntamento di democrazia, ho due fogliettini, da una parte ho Giuseppe Canfora, il suo nome, dall'altro Giovanni Cocca, chiedo scusa, l'altro suo nome. Cosa faccio? Vado a estrarre. Posso farlo io? Posso? Allora li lancio così come vengono, prendo questo, lo abro e questo praticamente è l'ordine di risposta. Il primo a rispondere sarà Giuseppe Canfora, il secondo a rispondere sarà, lo faccio vedere per correttezza anche se già l'ho fatto vedere prima a voi, sarà invece Giovanni Cocca. Quindi la prima domanda a rispondere è Giuseppe Canfora, sempre la prima domanda, il secondo a rispondere sarà Giovanni Cocca, seconda domanda invertita. Alla terza domanda, alla seconda risposta della terza domanda, ci fermiamo per cinque minuti per rifiatare, saranno sette le domande che andiamo a fare e poi ovviamente l'ottava l'appello al voto. Avete tre minuti di tempo per rispondere a ciascuna domanda, io praticamente ho davanti a me un timer molto semplice come si fa normalmente con uno smartphone e ovviamente essendo il primo a rispondere a Giuseppe Canfora io metto al mio fianco, alla mia destra, quindi quello che è il timer. Ma adesso però dobbiamo andare a vedere la domanda, perché diceva tu tutta sta roba ma la domanda tu non me la fai. Eccola qua. E allora, aspetta, copro le altre perché subito voi leggete. Eccola qua. E allora, partiamo da Giuseppe Canfora, entriamo subito nel vivo della realtà di Sarno, quale sarà il suo primo intervento da sindaco? Prego. Beh, intanto buonasera carissimi amici e un ben trovati a tutta la piazza. Beh, insomma, è una domanda molto bella, molto interessante, e dico immediatamente che la prima cosa che se sarò eletto sindaco mi dedicherò immediatamente a comporre come un buon padre di famiglia perché non può essere diversamente a costruire la squadra di governo perché se il motto è continuare per migliorare non c'è tempo da perdere se non costruendo immediatamente è una giunta che sia operativa, che sia competente, che sia professionalmente edotta e che soprattutto già conosce la storia di questo Paese, conosce le problematiche di questo Paese, conosce il contesto territoriale in cui ci si muove e deve conoscere necessariamente tutti i problemi perché se appunto dobbiamo migliorare dobbiamo avere la capacità di dare pensiero, forza e azione a tutti gli assessori che dovranno comporre la squadra di governo e questa squadra di governo dovrà essere appunto capace di interpretare il contesto, di analizzare, di ascoltare soprattutto le persone, di ascoltare le associazioni culturali, di ascoltare il mondo del volontariato, di ascoltare il mondo delle imprese, di ascoltare le famiglie, di ascoltare tutti i corpi sociali che contribuiscono a formare questa stupenda città che è la città di Sarno. Del resto, come abbiamo già fatto in questi cinque anni, questi cinque anni sono stati caratterizzati appunto da un ascolto costante che veniva dal territorio su tutte le problematiche, dall'ambiente all'urbanistica, dall'urbanistica ai lavori pubblici, dai lavori pubblici alle politiche sociali, dalle politiche sociali alla cultura, alla creatività, alla animazione di una città che necessita anche non soltanto di pensare e di costruire ma anche di pensare e di divertirsi. Quindi mi viene immediatamente il pensiero alle tantissime cose organizzate, una tra le più belle è sicuramente le vie del gusto. Le vie del gusto hanno dato un grande lustro alla nostra città, un grande intrattenimento, una grande vicinanza non soltanto a chi commercia, a chi fa negozio ma soprattutto ha dato la possibilità alla nostra città di mettere in esposizione le cose più belle dall'artigianato alle imprese e dai prodotti del gusto alla gastronomia. Io credo che noi dobbiamo essere veramente fieri di sapere che in nostra città ci sono dei prodotti di grande eccellenza che viaggiano in tutto il mondo e che dal tutto il mondo ci ritorna un messaggio di grande eccellenza e di grande onore e di rispetto non soltanto per i nostri imprenditori ma soprattutto per la città di Sarno. Grazie, grazie a Giuseppe Canfora. Sentite il trillo, non so se ci sia sentito anche voi dall'esterno. Queste sono state le parole di Giuseppe Canfora. A questo punto la linea, o meglio il microfono, passa a Giovanni Cocca. La domanda è semplice, entriamo nel vivo della realtà di Sarno. Quale sarà il suo primo intervento da sindaco? Anche per lei tre minuti. Innanzitutto buonasera a tutti, buonasera a questa bellissima piazza così affollata. Era tanto tempo che non vedevo una piazza così affollata qui a Piazza 4 Novembre. Buonasera anche ai radioascoltatori e buonasera a tutti voi. Innanzitutto grazie perché poi pensare a questa domanda era, come posso dire, abbastanza anche semplice forse nel ragionamento di dire quali potrebbero essere le domande che uno potrebbe ricevere oggi. Beh, ci sono tante cose su cui sicuramente pensare. Innanzitutto come anche prima il ragionamento della formare la squadra. Noi in verità abbiamo la presunzione di essere anche a buon punto perché abbiamo una serenità di fondo e l'abbiamo dimostrato durante tutta la campagna elettorale. Non abbiamo bisogno di tempi per formare la squadra. Ce l'abbiamo già pronta, ricca, piena di professionisti, piena di persone che hanno tanta voglia di fare e di dimostrare il nostro progetto, dimostrarlo in termini concreti. E soprattutto vista l'estate che avanza, un percorso innanzitutto di salubrità delle strade perché deve essere una cosa importante. L'impatto deve essere quella della sanificazione di tutte le strade che da tempo non viene fatta sul nostro territorio, con la pulizia anche delle singole caditoie. Soprattutto in un pieno centro, soprattutto anche nelle periferie. Ragionare, vista l'estate che avanza, anche con tutti i problemi che ci sono stati negli ultimi anni dovuti alle zanzare, a tutti i moschitos che tante volte abbiamo avuto gravi problemi di nuvole, di piccoli moscerini. Allora anche questo sarà un compito focale della nostra futura amministrazione. Partire anche con il discorso immediatamente, con quella che è la ricchezza, della dimostrazione di quello che noi abbiamo detto in campagna elettorale e l'abbiamo dimostrato con la prima fase della campagna elettorale. Abbiamo avuto l'accortezza di coinvolgere tanti giovani che ci sono stati vicini, abbiamo avuto il 25% dei nostri candidati con età di sotto dei 40 anni. Non mi stancherò mai di ringraziarli e mai di dirlo soprattutto, anche perché questa deve essere l'innovazione della futura amministrazione Cocca. Il coinvolgimento dei ragazzi, quindi con la calendarizzazione di tutti gli eventi estivi. Abbiamo la fortuna di arrivare in un'estate, quindi il lavoro inizierà direttamente martedì prossimo quando inizieremo veramente a capire dopo lo spoglio, da lunedì dopo lo spoglio, arrivare martedì a capire quali sono veramente i primi eventi da organizzare e partendo da tutti i fini di settimana, non tralasciando il discorso delle periferie che vengono sempre prima di tutto, ragionare in termini compulsivi con ogni componente della nostra squadra. Ripeto, la nostra ricetta l'abbiamo dimostrata durante la campagna elettorale. Con poco possiamo fare tanto, intrecciare e far aderire sia i ragazzi sia i meno giovani in tutti gli eventi possibili e immaginabili che con poco siamo riusciti a fare. D'accordo, d'accordo. Grazie. Ha finito qualche secondo prima, va bene così. Mancavano più o meno 15 secondi, ma noi tranquillamente andiamo avanti. Vi ricordo, gentili radioascoltatori che ci stanno seguendo, questo è il confronto tra Giuseppe Canforo e Giovanni Cocco, un confronto che va indifferita per giovedì 6 di giugno alle ore 21 circa come partenza, mentre invece chi ci sta seguendo in diretta ci sta tranquillamente vedendo su sarnonotizie.it, su radiobase.fm e sulla redazione.eu. A questo punto abbiamo ascoltato la prima domanda che era un po' argomento a piacere, un po' come si fa a scuola per rompere il ghiaccio, per farvi stare un po' più tranquilli. La seconda, la terza, la quarta, fino a poi arrivare la settima, sono domande un po' più tecniche, ma ci sta se si vuole fare il sindaco di qualsiasi città. Incominciamo. Ci sono, a questo punto risponderà Giovanni Cocca, ci sono sicuramente dei punti che riescono a racchiudere meglio di altri il senso di sviluppo territoriale. Parliamo di progettazione degli spazi urbani che deve tener conto di infrastrutture, ma anche di lavori pubblici. Rispetto al piano urbanistico, adottato da Sarno dopo tanti anni, che prospettiva abbiamo per il prossimo quinquennio? La parola a questo punto a Giovanni Cocca. Eccolo qua. Beh, a partire proprio dallo strumento urbanistico, io partiamo sicuramente come prima idea dall'Oesi del Voscone, anche perché, benché è stato detto che sia in zona rossa, ma significa anche andare poi a chiudere quelle che sono le piste podistiche sulle altre vasche. Noi l'Oesi del Voscone lo immaginiamo come un parco avventura, come un parco dedito non alla costruzione del cemento, ma alla costruzione di vari manufatti in legno e cordame, e soprattutto per la pulizia che dobbiamo andare a garantire rispetto al versante, perché oggi tutta la zona è una discarica a cielo aperto. Quindi questo sarà uno dei primi, nei primi idee, partendo proprio da Foce per arrivare idealmente a quello che è il collegamento virtuale, partendo da lavorate, chiedo scusa, fino ad arrivare a Foce. Un altro bel principio è quello delle porte del fiume, già presente nel PUC, facendo un collegamento oltre che virtuale, ma reale, con un percorso ciclopedonale delle masserie, quindi lungo la tratta del rio Santa Marina, ragionare in termini di realizzazione di una pista ciclopedonale, di un tratturo per collegare in maniera materica tutte le masserie fino giù alla Sciulia, col confine, con il Comune di San Valentino. Barragionando per il centro, ci sono grandi idee, idee di progetto, idee di progetto che riguardano il mercatino rionale, qui da sempre abbandonato, con problemi grossi di impiantistica, di tenuta, di sfondellamento dei solai, perché è una struttura molto obsoleta e che abbia bisogno di una grande manutazione. Noi l'idea di progetto che abbiamo è quella di realizzare un parcheggio nella parte interrata, sulla strada, perché c'è una differenza, un salto di quota importante, e ridare quello che è un decoro urbano al centro della nostra città. Questo fa parte di un ragionamento di riqualificazione che noi abbiamo chiamato la riqualificazione di waterfront, quindi lungo tutta la strada dell'acqua, a partire quindi dal mercatino, ragionando in termini di box use, dare dei servizi, dei servizi certi, che oggi effettivamente anche la piccola area mercatale, tutti gli avventori vanno a chiedere il piacere a tutti i bar intorno e poter utilizzare i servizi. Quindi creare una struttura completa, complessa, affinché possa essere veramente un volano di rinascita e soprattutto togliere le macchine dal piano della piazzetta, perché oggi vendere la verdura, quindi vendere ortaggi, vendere ortofrutta, e vicino alle macchine, i tubi di scappamento, diventa quasi un controsenso. Quindi ridare dignità anche a tutti i venditori del mercatino. Per poi passare a quello che è il recupero dei tratturi, dei tratturi pedemontani, dal tratturo di via San Domenico, che parte da Vico San Martino fino ad arrivare a San Matteo, con una serie di belvederi. Anche lì è tutta una zona in frana che non è stata proprio presa in considerazione. Abbiamo un ragionamento che riguarda anche un'area con un progetto molto più importante, l'area del parcheggio di ragioneria, lasciando sempre le macchine, visti salti di quota, nel piano seminterrato, ragionare a piazza verde nella parte estradossale. Abbiamo soprattutto pure per... Dimmi, scusami. Ah, finito. Sono arrivato a metà, perdonatemi. Abbiamo tante cose da fare. Va bene, va bene. Grazie, allora. Fermiamoci. Eccolo qua. Ripeto la domanda. A questo punto risponderà invece il Giuseppe Canfro, che è qui alla mia destra. Ci sono sicuramente dei punti che riescono a racchiudere meglio di altri il senso di sviluppo territoriale. Parliamo di progettazione degli spazi urbani che deve tener conto di infrastrutture i lavori pubblici. Rispetto al piano urbanistico adottato da Sarno, dopo tanti anni, che prospettiva abbiamo per il prossimo quinquennio? Tre minuti anche per Giuseppe Canfro. Prego. Io voglio innanzitutto ricordare che il piano urbanistico comunale che aspettavamo da 47 anni lo ha approvato questa amministrazione. Quindi è sicuramente un punto avvantaggio di questa amministrazione che aspettavamo da 47 anni l'attuazione di un piano urbanistico comunale. Dopodiché, una volta attuato il piano urbanistico comunale, abbiamo realizzato i piani attuativi e su questi piani attuativi ci sono due piani che stanno andando tranquillamente avanti. Mi riferisco al piano attuativo tecnologico e mi riferisco al piano attuativo turistico alberchiero ricettivo, culturale di Foce. Su questi problemi noi abbiamo lavorato profondamente, abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato con grande interesse perché sappiamo che questi tre piani attuativi sono il rilancio economico e sociale della città di Sarno. Per cui è sicuramente un volano enorme, tant'è che siamo stati anche premiati attraverso il piano urbanistico comunale nella città di Milano al Politecnico. Quindi voglio dire abbiamo un piano urbanistico comunale di grande valore. Se siamo stati una delle poche città premiate in Italia meridionale è semplicemente dovuto al fatto che il piano urbanistico comunale prevede i parchi, prevede i boschi, prevede anche un risparmio del suolo ed è fondamentale risparmiare il suolo in una città dove il verde diventano grandi attrattori. Noi stiamo per stipulare una grande convenzione con due università, con la sovrintendenza dei beni archeologici per rilanciare gli scavi di foce. Siamo a un passo dalla sottoscrizione di questi protocolli d'intesa perché sul PUA di foce abbiamo un interesse enorme, 14 manifestazioni di interesse da parte degli imprenditori. Se noi abbiamo voluto con grande forza i distretti turistici e io sono stato il promotore dei distretti turistici è perché in previsione questa nostra città deve diventare una città dei servizi alla persona, un distretto dei servizi alla persona. E quindi quando parlo dei distretti di servizi alla persona uno dei distretti è appunto quello archeologico, culturale che dobbiamo necessariamente attuare. Ma ci sono tutte le condizioni di base per attuarlo. I protocolli d'intesa, i contenitori che vedono il museo archeologico, Villa Lanzara, Convento San Domenico, museo archeologico sul quale ricordo a chi ci ascolta c'è un progetto di finanziamento di 1.600.000 euro per terminare il terzo piano e se il museo archeologico nel 2018 ha richiamato 5.000 turisti vuol dire che la nostra amministrazione sta lavorando bene. Grazie a Giuseppe Canfora e allora andiamo avanti. A questo punto abbiamo la terza domanda alla quale risponderà subito Giuseppe Canfora. Avere una visione di Europa è oggi sicuramente un punto di vista di possibilità per nuove progettazioni, lavoro, occupazione per i giovani e non solo. Come si parte dal territorio per poter guardare lontano? Tre minuti. Ma noi abbiamo già guardato lontano perché tutto ciò che è stato finanziato nel comune di Sarno direttamente e indirettamente sono finanziamenti che ci vengono dall'Europa. I fondi che la regione Campania ha messo a disposizione della città di Sarno sono fondi europei. Ricordo tanto per essere chiari che il piano produttivo industriale i 7.350.000 euro che ci sono pervenuti attraverso un decreto di finanziamento sono fondi europei che purtroppo rischiavamo di perdere perché potevamo perdere 7.350.000 euro. Invece attraverso l'accelerazione di spesa che ce li aveva cancellati noi siamo stati bravi a recuperarli e a giugno partirà un bando affinché tutta la zona industriale sarà riconsegnata con un centro di servizi ai nostri imprenditori. Io voglio ricordare che questa amministrazione per i nostri imprenditori ha fatto tantissimo mi riferisco alla convenzione anzi al protocollo e alla delibera nella quale abbiamo riconosciuto ai nostri imprenditori che erano prigionieri di una determinata politica la capacità di fare impresa perché la politica deve necessariamente velocizzarsi e dare spazio agli imprenditori erano erano bloccati con i loro capandoni e con i loro con la loro attività in una convenzione che li vedeva legati per 15 anni noi abbiamo dato la possibilità ai nostri imprenditori non soltanto di vendersi i capennoni dopo 5 anni ma di poterli fittare quindi abbiamo lavorato esclusivamente nell'interesse di tutti gli imprenditori dell'area VIP ora noi vogliamo continuare a guardare all'Europa però voglio ricordare a chi si ascolta che anche la bonifica dell'ex discarica di via Brasigliano noi l'abbiamo bonificata sempre grazie a fondi che ci vengono dalla regione Campania e il più delle cose che abbiamo fatto anche per quanto riguarda gli altri lavori pubblici eseguiti mi riferisco allo stadio Felice Squitieri in questo momento ci sono lavori che riguardano la parte il campo l'erba beh quello ci viene attraverso le universiadi che si svolgeranno a luglio e questi soldi non è che ci vengono dalla regione Campania ma ci vengono esclusivamente attraverso fondi europei che vengono designati alla città di Sarno insieme ad altre ad altre città dell'agro sarnese nocerino voglio dire noi abbiamo un occhio attento all'Europa e con i sindaci dell'agro sarnese nocerino vogliamo stipulare un'unione dei comuni così come abbiamo fatto per il piano di zona per entrare immediatamente nel più Europa per avere la possibilità come avviene per città come Scafati o come Battipaglia o come tutte le città che stanno al di sopra dei 50.000 abitanti il più Europa ci dà la possibilità di prendere immediatamente 50 milioni di euro grazie Giuseppe Canfora la terza domanda la ribadisco anche per Giovanni Cocca e in pratica riguarda ah grazie riguarda ovviamente la stessa io la rifaccio avere una visione di Europa è oggi sicuramente un punto di vista di possibilità per nuove progettazioni lavoro occupazione per i giovani e non solo come si parte dal territorio per poter guardare lontano aspetti che le do il microfono tre minuti ecco qua grazie è una bellissima domanda anche perché noi siamo sempre occupati di fondi europei abbiamo sempre dato e dimostrato che siamo capaci di portare di essere attrattori dei fondi in un ultimo piazza Marconi cui ho dato il piccolo contributo personale proprio il ragionamento il ragionamento fondamentale è quello proprio di ripartire dai sarnesi da un discorso proprio di sarnesità mi spiego anche meglio noi abbiamo abbiamo la fortuna sicuramente di conoscere le dinamiche dei fondi europei io ringrazio ringrazio Giuseppe Canforo che ha dato il discorso dei 7 milioni e mezzo per quanto riguarda la zona industriale però se su 7 milioni e mezzo abbiamo quasi 800 mila euro di spese tecniche per mantenere una struttura obsoleta e soprattutto di potere rispetto alla gestione del territorio che è quella dell'ex agroinvest parto dal presupposto che sono soldi sprecati devono essere più che altro bisogna che essere capaci soprattutto di inquadrare i fondi rispetto a quella che è l'effettiva necessità anche perché abbiamo una zona industriale completamente degradata abbiamo un problema di urbanizzazione che non è completata abbiamo avuto addirittura per i bandi precedenti e mai annullati come ragionamento abbiamo avuto sempre purtroppo gli imprenditori vessati da continui aggravi rispetto a quello che è il prezzo unitario per metro quadro dell'otto allora anche questo c'è sempre parlato di una cabina di regia con il discorso degli imprenditori la nostra presunzione è quella di riattivare io lo dico sempre scherzando il neurone dell'ascolto soprattutto rispetto alla zona industriale dialogando in continuazione con le loro rappresentanze basta società miste basta società pubbliche ricordiamo che la zona industriale fa parte del Comune di Sarno e quindi deve essere gestita direttamente dai sarnesi dall'amministrazione sarnese insieme a Braccetto con quello che è i consorsi degli imprenditori questo significa rivalorizzare e partire da capo rispetto alle dinamiche per non parlare però del discorso anche di uno sportello che nel nostro programma abbiamo inserito uno sportello un anello di congiunzione rispetto a quello che sono effettivamente tutti i 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 soprattutto per i giovani che vogliono andare ad investire sul territorio creando sempre nuove imprese. Per quanto riguarda i lavori pubblici ormai l'ente non può pensare di finanziare opere pubbliche con i fondi propri quindi attiveremo in prima persona perché poi il sindaco deve essere l'atteggiamento giusto del buon padre di famiglia andando in regione ai ministeri per fare in modo di trovare e aprire quei cassetti di finanziamento e portare le idee di progetto su Sarno, quelle idee di progetto di cui prima abbiamo parlato e che con i finanziamenti europei riusciremo a portare avanti. D'accordo, d'accordo. Grazie allora, siccome possiamo continuare, vi vedo abbastanza carichi, facciamo ancora un'altra e poi andiamo in pausa, siete d'accordo? Per me possiamo continuare tranquillamente. Ok, va bene, allora avete l'acqua, avete tutto, c'è anche la gente che vi vuole bene quindi a questo punto approfittiamo e andiamo avanti. Quarta domanda, amici, vi ricordo che siamo su sarnonotizia.it, su radiobase.fm, sulla redazione.eu, in diretta, su Facebook, sulle pagine pubbliche e domani, differita alle 21, integralmente domani giovedì 6 giugno, sulle frequenze di radiobase. Allora, quarta domanda, il primo a rispondere sarò a Giovanni Cocca, la domanda è questa. Il commercio è da sempre considerato il volano di un territorio, dinanzi ad una evidente crisi che interessa l'Italia intera, sentita maggiormente da piccoli e medi commercianti, quali sono le strategie da poter concretamente mettere in campo? Eccolo qua, microfono, tre minuti. Allora, io ultimamente abbiamo fatto un'analisi abbastanza seria, perciò ho il fogliettino avanti dei numeri, perché quando parlo di numeri devo essere serio. Si parla del di Sarno, che è diventata la città più povera della provincia di Salerno, per unità di popolazione al di sopra dei 15.000 abitanti. Addirittura è al 125esimo posto della città più povera tra tutte e 158 comuni della provincia di Salerno, con un reddito appena di 638 euro al mese. Allora, questo significa che noi abbiamo un grave problema economico. Questo problema economico poi ha fatto nient'altro che impoverire anche le nostre menti e i nostri cuori, anche perché poi noi andiamo sempre fuori a portare anche i nostri soldi, perché se non c'è una vivibilità centrale, non c'è neanche una spesa diretta con tutti i commercianti che ci mettono passione, ci mettono investimenti. Allora, anche questo, questo si rilega molto a quello discorso che abbiamo detto prima, sulla calendarizzazione degli eventi. Noi dobbiamo fare in modo che le persone tornino a Sarno. Sarno è vuota, Sarno di sera è diventata un dormitorio. Abbiamo tutte le famiglie che hanno bambini, o meglio, ragazzini dai 14 ai 16 anni, che vengono accompagnati a Nocera ad uscire, perché c'è più vita, c'è più movida, anche per la loro età. Allora, questo deve essere in controtendenza. Noi, con la calendarizzazione degli eventi, vorremmo cercare, partendo dalle periferie, passando per il centro urbano, ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, di creare quel volano, di quel volano che deve riempire le piazze, come stasera qui abbiamo a Piazza 4 Novembre. Togliete i candidati, fate un evento di Conradio Base qui al centro, e trovate effettivamente tante persone qui davanti che vengono incuriosite, abbiamo persone giovani, abbiamo persone meno giovani, abbiamo i nostri padri, i nostri fratelli, le nostre sorelle. Abbiamo questo, la dinamicità. Noi, è questo che ci dobbiamo mettere in mezzo, ci dobbiamo mettere sempre l'atteggiamento del buon padre di famiglia, che deve dare spunto e deve creare un volano per riqualificare, soprattutto numericamente, le nostre strade e le nostre piazze. Chiaramente tutto questo deve essere supportato anche da un discorso di tetassazione, perché poi è bello dire, tari e abbassiamo e tutto il resto, però bisogna capire se la spesa è 100 o rimane 100, noi dobbiamo fare in modo che quella spesa di 100 scenda 80. Questo significa abbassare le tasse, non significa aumentare i metri quadri, non significa dire come in campagna elettorale, togliamo di mezzo le società che ci hanno dato una mano a trovare i furbacchioni delle tasse, nel senso quelli là che non pagavano o addirittura non censiti. Questo significa avere un approccio serio, un approccio concreto per cercare di riavviare Sarno, perché effettivamente noi abbiamo questa dinamica in maniera molto triste, quindi dobbiamo trovare il sorriso anche nella città, dobbiamo trovare il sorriso nelle persone che vogliono stare nella nostra città e che vogliono visitare la nostra città. Grazie dunque a Giovanni Cocca, anche per lui sono terminati i tre minuti, ripeto la domanda e adesso a rispondere sarà Giuseppe Canfora. Il commercio è da sempre considerato il volano di un territorio, dinanzi ad una evidente crisi che interessa l'Italia intera, sentita maggiormente da piccoli e medi commercianti, domanda quali sono le strategie da poter concretamente mettere in campo? Voglio semplicemente ricordare che in questi cinque anni noi abbiamo speso circa 26 milioni di euro in opere pubbliche e ne abbiamo altrettanti 45 milioni di euro da spendere in opere pubbliche e questo è tutto vantaggio dell'amministrazione comunale perché in tempi brevi abbiamo sanato il passato, abbiamo costruito il presente e abbiamo programmato il futuro. Ora, per quanto riguarda la domanda che viene posta, io credo che questa amministrazione abbia iniziato un discorso molto serio con i nostri negozianti e con i nostri commercianti, tant'è che se chiedete allo sportello SUAP del Comune di Sarno vi diranno che 300 nuovi esercizi commerciali hanno trovato domicilio nella nostra città. E tra l'altro è giusto che trovano domicilio nella nostra città perché in questo momento la nostra città, a differenza di tante altre città dell'Agro Sarnese e Nocerino, è accogliente perché è una città molto più pulita, molto più decorosa, molto più dignitosa e soprattutto se abbiamo raggiunto i risultati dell'83% della raccolta differenziata e merito soprattutto di tutti quanti voi a cui va un mio grazie sentito. Grazie, grazie, grazie. Ed è quindi ecco perché diventa una città un attrattore, perché si diventa un attrattore quando si investe sul decoro, sulla pulizia, sull'igiene. Ora, come si fa a far sì che i negozianti riaprono i loro esercizi commerciali? Detassando e facendo delle misure incentivanti. Noi in questi cinque anni abbiamo detassato, tant'è che se domandate ai nostri esercizi commerciali che guardano la piazza quando pagavano di tari dal 2011 al 2014 e quando pagano ora di tari dal 2014 al 2019, vi risponderanno che hanno avuto un risparmio del 50%. Dopodiché noi abbiamo abbassato la cosa, abbiamo eliminato la tassa sull'ombra e abbiamo soprattutto calmierizzato l'IMU, perché l'IMU, vi ricordo a tutti quanti voi, pagavamo negli anni precedenti, alla passata amministrazione, pagavamo un attimo 5 euro a metro quadro per metri, 5 euro a metro quadro. Oggi ne paghiamo 0,45 centesima a metro quadro. Questo per dire che noi abbiamo iniziato un ragionamento serio di detassazione ed è l'unico modo che abbiamo per incentivare i nostri negozianti, i nostri commercianti. È chiaro che la prossima amministrazione continuerà a detassare e darà degli incentivi. Passeremo da tre anni in cui non si paga la tari per chi apre un esercizio commerciale a cinque anni. Più incentivi di questo. Poi dobbiamo tenere presente che noi lottiamo contro la vendita online e contro le cattedrali del consumo. Grazie, grazie a Giuseppe Canfora. E allora a questo punto io guardo la regia. Andiamo in stand-by, magari con lo streaming, non passiamo semplicemente il volume. A livello radiofonico, magari un pochettino di musica, fra cinque minuti esatti, grosso modo, facciamo esatti, grosso modo, Giuseppe Canfora e Giovanni Cocca, continueremo con loro il confronto, molto tranquillo, vi state confrontando su temi, penso, utili e sento anche la gente che ha piacere a queste domande. rimanete con noi su saronotizie.it, radiobase.fm, la redazione.eu e l'FM di Radiobase. Rimanete con noi qualche minuto e torniamo nuovamente con la quinta, sesta e settima domanda e poi l'ultima che è il vostro appello al voto. Ok. Grazie. 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 E allora, torniamo nuovamente qui da Sarno, vi ricordo che siamo in diretta su tre pagine pubbliche Facebook che sono sarnotizie.it, radiobase.fm e anche la redazione.eu, ovviamente siamo anche come radiobase e tutto l'integrale di quello che state vivendo davanti a noi lo potranno riascoltare anche i nostri gentili radioascoltatori e radioascoltatrici dalle 21 di giovedì 6 giugno l'ultima domanda aveva visto in ordine Cocca Canfora, adesso ovviamente l'ordine la quinta domanda è Giuseppe Canfora e quindi Giovanni Cocca partiamo con la quinta domanda, ci siete? Vi siete rifocillati? State tranquilli? Perfetto, sereni e partiamo. Quinta domanda, Giuseppe Canfora risponde per primo quando si parla di nuove generazioni, soprattutto a Sarno, non si può non far riferimento alla importante popolazione scolastica e all'offerta di formazione a questo si lega anche l'edilizia scolastica, ma quali interventi sono necessari? tre minuti, ecco qua. Ma gli interventi necessari per la scuola come per la sanità non finiscono mai, per cui investire nella scuola e investire nella sanità significa costruire quella città dei servizi alla persona a cui mi ispiro e della visione futura. Io credo che mai nessuna amministrazione da 50 anni a questa parte ha fatto tanto per la scuola, semplicemente pensando che abbiamo messo insieme tutti gli insegnanti, tutti i dirigenti, abbiamo costruito la consulta scolastica, una consulta che funziona magnificamente in sinergia non soltanto con il comune di Sarno, ma anche con la provincia di Salerno e con tutti gli altri enti sovracomunali. Noi per la scuola abbiamo fatto degli investimenti straordinari e tra l'altro abbiamo recuperato, sempre attraverso i fondi europei, abbiamo recuperato non soltanto gli 8 milioni per il primo padiglione della cittadella scolastica, ma con il 2019 andremo a recuperare ben 18 milioni per il secondo e terzo lotto. Ora, perché per il secondo e terzo lotto? Perché il terzo lotto dovrebbe necessariamente diventare una scuola di specializzazione e di formazione universitaria. Poi abbiamo investito ancora tantissimo, voglio ricordare a chi ci segue e a chi ci vede, voglio ricordare che Episcopio, che è una cittadina, un quartiere importantissimo per storia e per cultura, c'era la scuola dove albergava esclusivamente due classi elementari, in questo momento in quella scuola non c'è soltanto l'elementare, c'è un istituto comprensivo che va dall'asilo nido fino alle scuole superiori, cioè c'è l'asilo nido, c'è la scuola elementare, c'è la scuola media, ci sono due istituti superiori, il Profagri e c'è il liceo scientifico, quindi voglio dire anche in Episcopio abbiamo costruito una scuola, una scuola importante, una scuola che deve servire necessariamente la città e anche questa gloriosa frazione, ma altri importanti progetti già finanziati li abbiamo per la scuola di Serrazzetta e per la scuola di Massiere della Corte, così come abbiamo un altro progetto già finanziato per un altro asilo nido al centro di Sarno verso Prolungamente Matteotti. Ora quando dico già finanziati, perché sono già finanziati, rientrano in quei 46 milioni di euro programmati che già stanno nel nostro portafoglio del Comune e sono due progetti esecutivi, perché non sono due progetti preliminari, cioè non sono dei disegnini, no, sono due progetti esecutivi che nei prossimi giorni noi andremo tranquillamente ad esporre ai nostri concittadini e soprattutto li andremo ad esporre sia a Masserie della Corte sia a Serrazzetta. Poi abbiamo tante altre... Grazie, grazie Giuseppe Canfora, è il momento invece di Giovanni Cocca, ripeto la domanda come sempre, quando si parla di nuove generazioni, soprattutto a Sarno non si può non fare riferimento alla importante popolazione scolastica, anche all'offerta di formazione, a questo si lega anche l'edilizia scolastica, ma quali sono gli interventi necessari? Giovanni Cocca, eccolo qua, tre minuti. Beh, mi preme fare anche un minimo di chiarezza, anche perché noi ci occupiamo di lavori pubblici come studio e il treno che ha perso il Comune Sarno è un treno che non tornerà, nel momento in cui posto terremoto, l'ultimo, sono stati finanziati gli abbattimenti e le ricostruzioni di tante scuole, il Comune Sarno non ha partecipato ad alcun bando per la ricostruzione della scuola, noi c'è stato un periodo fino a tre anni fa che per le imprese progettavamo ogni mese almeno un paio di scuole a giro per tutta la provincia di Salerno, quindi parto dal presupposto del disinteresse da parte di questa amministrazione rispetto a questa tematica, che poi vogliamo anche capire da un punto di vista strutturale, perché poi tutto quello che è successo e non ce lo dobbiamo dimenticare, sia a Serra Zeta, sia a Lavorate, con gli sfondellamenti, perdonatemi, io da tecnico e da padre soprattutto ho intenzione di verificare personalmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, tutti gli edifici resti scolastici che hanno un grave problema di fondo, che è quello della manutenzione ordinare e straordinaria fallimentare, allora anche questo, dovremmo attivare anche i fondi per gli edifici strategici, per la vulnerabilità sismica, che anche questo è un fatto fondamentale che mi preme vedere da vicino e soprattutto mi preme quale ingegnere, il ragionamento deve essere sempre coinvolto rispetto a quello che sono la tematica importante della qualità anche dell'offerta scolastica, io so di per certo che ci sono problemi di aule all'interno del titolo Crescio Caro che mi ha visto tra i suoi studenti e quindi ringrazio sempre il preside Davino che ci ha accolto sempre anche lui come buon padre di famiglia anche all'interno, ci conosceva uno ad uno. Il ragionamento deve essere anche questo, non è possibile oggi nel 2019 pensare ad un liceo linguistico che blocchi le iscrizioni, dobbiamo fare in modo di creare nuove aule e soprattutto non buttare i soldi pubblici perché con tutto il bene, un progetto da 30 milioni di euro che era la cittadella scolastica sulla variante, poi ridimensionato a 20, arrivato a 8, io non vorrei venisse creata un'altra cattedra nel deserto vista anche il contenzioso aperto su quella che è la di Amicis perché anche questo ci dobbiamo dire, perché non è di facile risoluzione, soprattutto ragionare in termini concreti, capire dove sono state le problematiche, analizzarle e portarle a compimento perché è pur vero ma non è tutt'oro quello che luccica, ci sono grossi problemi anche su altri appalti pubblici, ma poi ne faremo sicuramente tesoro e andremo avanti nella disamina. Allora sul discorso delle scuole, i nostri figli vanno a scuola, vanno dall'asilo alle scuole medie, alle scuole superiori, chiaramente le scuole superiori fanno parte del parco della provincia, quindi anche questo, però dobbiamo essere chiari, dobbiamo fare in modo di attrarre i fondi per l'abbattimento e la ricostruzione di tutti i plessi scolastici, recuperarli non ha alcun senso, i fondi ci sono e dobbiamo portare avanti questa tematica. Grazie dunque Giovanni Cocca e ripartiamo proprio da lui per la sesta domanda. Aspettate che blocco qui anche il timer. La stessa domanda, parlare di sanità a Sarno significa fare riferimento ad uno degli ospedali più moderni all'avanguardia della provincia di Salerno, ma si parla anche di un bacino di utenza eccedente e di un necessario potenziamento del personale. Che misure si possono adottare? Ok? Tre minuti. Bene, non essendo medico, non essendo facente parte dell'organico dell'ospedale, è più che altro una domanda per il caro dottore. Allora il ragionamento nostro che abbiamo fortunatamente avuto con noi candidati medici, candidati infermieri che lavorano all'interno del presso ospedaliero, che saluto e ringrazio anche per tutta una serie di informazioni che ci sono state date. Abbiamo purtroppo il fallimento anche di questa parte dell'amministrazione, perché è un'amministrazione che non si è proprio interessata di quello che è l'ospedale, parto dal presupposto senza avere dei focus rispetto a quelle che sono le problematiche. Un pronto soccorso al collasso, perché se erano i nostri amici ci hanno detto, ma come poi è possibile verificare, poi vi racconto anche una detto se c'è tempo, che noi abbiamo un pronto soccorso dimensionato su 15.000 interventi l'anno, oggi ce ne sono 45.000 e gli addetti ai lavori sono sempre gli stessi rispetto ai 15.000 iniziali. Quindi è un collasso continuo, io sono stato, ho avuto un problema alla spalla per avere una radiografia, ho dovuto aspettare ben tre ore e mezzo per non parlare di tutto quello che si vedeva all'interno delle corsie. Io ho avuto il problema di mia madre, che non sapevamo in maniera, un problema molto serio, mi è stato detto di rivolgermi al pronto soccorso di Nocera, quindi per me significa essere veramente mortificati come sarnesi. Allora per non parlare anche del reparto di ginecologia, il reparto di ginecologia non ha i parti sufficienti a mantenere quello che è la sua reale funzione, quindi se domani mattina perdiamo ginecologia perderemo anche pediatria, anche perché questo è diventato un ospedale, detta anche dei medici che lo frequentano e ci lavorano, di frontiera dove sono arrivati i big, se ne sono andati in pensione e sono arrivate più che altro scartine da tutto il resto della regione Campania. Allora anche questo deve essere verificato, soprattutto il ragionamento dobbiamo fare in modo che ci sono delle problematiche inerenti a quella che è anche la gestione del parcheggio, a quelle che sono le gestioni anche dei servizi tutto intorno. Allora dico io, il ragionamento deve essere sempre l'atteggiamento positivo e propositivo di aprire un focus, visto che fondamentalmente l'amministrazione non può andare a intervenire in maniera diretta rispetto delle dinamiche dell'ASL, ma deve essere più che altro propositiva, ragionare, conoscere le problematiche e attivarsi affinché tutti i cittadini innanzitutto sappiano effettivamente la verità su quello che è la gestione ospedaliera e soprattutto avere in mente un'idea di intervenire in maniera diretta in tutte le salse, in tutte le misure affinché l'ospedale di Sarno effettivamente venga recuperato al suo vecchio splendore. Grazie allora, 20 secondi rimanenti, ma andiamo avanti perché abbiamo la sesta domanda che andiamo a girare a Giuseppe Canfra, la ribadisco, parlare di sanità a Sarno significa fare riferimento a uno degli ospedali più moderni all'avanguardia della provincia di Salerno, ma si parla anche di un bacino di utenza eccedente ed è anche di un necessario potenziamento del personale, che misure si possono adottare? Tre minuti. Primo la mia più viva solidarietà ai medici dell'ospedale di Sarno, ai medici di base, è tutto il personale che lavora nella sanità del comune di Sarno, ma dell'ASL, dell'ASL di Salerno. Se non ci capiamo sul commissariamento che viene da 15 anni, probabilmente siamo tutti quanti disinformati e mi dispiace registrare una disinformazione di fondo, perché non è così, perché noi veniamo da un commissariamento che dura da 15 anni e quando il commissariamento esiste nella sanità campana c'è da dire che purtroppo si taglia su che cosa? Si taglia sul personale, si taglia sui medici, si taglia sui infermieri, si taglia sui tecnici ed è stata questa la politica sanitaria che la regione Campania fino al governo De Luca ha messo in atto. Questa è stata la politica, per cui è chiaro che c'è bisogno di 10 medici, però fortunatamente in questi 5 anni abbiamo recuperato e stiamo a 6. Per cui l'ospedale di Sarno non soltanto resterà aperto, perché è vero che risponde oltre a 45 mila prestazioni, ma questo è vero per tutti gli ospedali della provincia di Salerno e per tutta la regione Campania e per tutto il meridione. Allora o prendiamo confidenza e ci informiamo seriamente o facciamo strumentalizzazioni semplici, banali e facciamo disinformazione. Ora il commissariamento probabilmente finirà, tant'è che in questi 4 anni si sono fatti concorsi, si è fatta la mobilità e quasi 12 mila medici sono diventati stabili e sono usciti dal precariato. L'ospedale di Sarno è già stato potenziato oltre ogni misura, nel senso che sono stati aperti altri tre ambulatori, probabilmente manco lo sapete e mi dispiace. Allora vi informo io, è stato aperto l'ambulatorio di terapiantaggia, è stato aperto l'ambulatorio di odontiatria, è stato aperto l'ambulatorio di orodinamica, sono state potenziate tutte le divisioni, tutte le divisioni sono state potenziate. E questo ospedale fa ancora circa 2000 interventi chirurgici annui. Allora andatevi a vedere le statistiche e vedete gli altri ospedali come lavorano e quanta produttività fanno. Ora ci sarà un problema anche più grave e credo che, spero che potrà essere risolto come ha fatto la regione Molise e come hanno fatto tante altre regioni. Il problema si sposterà sui medici di base, oggi abbiamo purtroppo, potremo registrare a momenti una carenza anche sui medici di base, ma ci stiamo lavorando. La pediatria di Sanio è una pediatria che vive in regime di convenzione con ospedali in napoletà. Grazie, grazie, grazie. Questa è la risposta di Giuseppe Canfora, ripartiamo da lui per la settima e ultima domanda. Vi ricordo che questa ultima domanda prevede come le altre tre minuti, poi ce l'appella al voto due minuti. Ma partiamo, andiamo per ordine. Giuseppe Canfora risponde a tre minuti a questa domanda. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, le città green sono il futuro e l'obiettivo per tutti. Dire ambiente e dire ciò è ciclo integrato dei rifiuti, reati ambientali e prospettive di città sane e da misura di uomo. Quali sono i percorsi possibili? Tre minuti da adesso. Dobbiamo semplicemente continuare sulla strada che ha tracciato questa amministrazione negli ultimi cinque anni. Nel senso che abbiamo aperto e inaugurato l'isola ecologica che da ventiquattro anni non la si inaugurava. Vorrei chiedere a qualcuno il perché. L'abbiamo inaugurata noi. Abbiamo portato la differenziata dal 43% all'83%. Abbiamo avuto un riconoscimento non certamente dal comune di Sarno, ma il riconoscimento ci viene direttamente da lega ambiente. Siamo il primo comune riciclone tra i 30 e i 35 mila abitanti. Quindi la differenziata, grazie ai vostri sacrifici, funziona e funziona bene. La dobbiamo migliorare. Nei prossimi cinque anni questa amministrazione, se avremo il piacere ancora di governare questa città, passerà all'esame alla scheda magnetica, in modo tale che quando si va all'isola ecologica tutto quello che verrà portato all'isola ecologica sarà registrato e quindi partiranno anche degli incentivi per tutti coloro che faranno sempre meglio la differenziata. Questo ci ha permesso di essere oggi la prima città dell'agro sarnese nocerina più pulita. Probabilmente qualcuno non lo vuole ammettere, ma è la verità, perché non lo dico io, lo dicono semplicemente gli altri cittadini che vengono da fuori a Sarno e si complimentano e si congratulano per come vedono pulita la nostra città. Probabilmente c'è qualcuno che vuole a tutti i costi vederla sporca. Mi dispiace per questo qualcuno. Questa è l'amministrazione e io sono il sindaco che ogni reato ambientale vado a costituirmi civilmente. Non esiste in Italia un sindaco che va a costituirsi civilmente per i reati ambientali. Io lo faccio puntualmente. Noi vogliamo investire sul verde, ma vogliamo investire sull'energia pulita, per cui il piano regolatore generale del traffico è importante e indispensabile per diminuire l'inquinamento atmosferico, la presenza di CO2 e la presenza degli idrocarburi che fanno grandi danni. Quindi quando dico trasporto verde e immagino navette verdi che vanno a energia pulita, lo dico non soltanto perché abbiamo un grande risultato ambientale e non soltanto perché i nostri concittadini potranno definitivamente lasciare le auto e quindi il trasporto su gomma a casa, ma lo dico anche perché nell'ottica di diventare una città attrattiva noi dobbiamo fare sempre di più affinché altre famiglie dai paesi limitrofi vengono a vivere a Sarno perché trovano Sarno una città decorosa, una città pulita, una città accogliente, una città che lavora sulla persona, sulla persona. Grazie, grazie a Giuseppe Canfora. E ora è il momento di Giovanni Cocca. Ripeto la domanda, come sto facendo. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, le città green sono il futuro, e l'ho anche l'obiettivo per tutti. Dire ambiente è dire ciclo integrato dei rifiuti, reati ambientali ma anche prospettive di città sane e a misura di uomo. Quali i percorsi possibili? Adesso tre minuti. E anche qui mi occorre fare un attimo di chiarezza anche rispetto al discorso dell'isola ecologica perché l'isola ecologica tre anni fa quando c'è stato il bando erano già previste come migliorie già la fornitura di schede e di codici a barre per il discorso puntuale per il discorso proprio di aumentare quello che è il ciclo differenziato. E anche questa è un'altra opportunità persa da questo comune perché poi alla fine non è stato verificato l'iter finale di tutta la realizzazione dell'isola ecologica e tutto questo ha portato chiaramente ad un rallentamento di quello che è il ciclo integrato dei rifiuti. Anche questo significa conoscere le dinamiche della città. A partire anche dal discorso dell'ambiente. Noi tra il primo obiettivo abbiamo la formazione di una commissione permanente speciale che vada ad interagire su quella che è la conoscenza del problema di inquinamento perché noi abbiamo un reale problema di inquinamento e soprattutto non dobbiamo nasconderci perché abbiamo in ogni famiglia un problema di malattie dovute anche all'inquinamento. Allora anche questo, partire anche dal discorso della rete fognaria che sta effettivamente avanzando, però la rete fognaria bisogna capirla e studiarla perché se ci sono degli specchi fognari ridotti come sezione soprattutto nella zona di lavorate fino ad arrivare ai subcollettori perché poi dobbiamo anche capire che la rete fognaria di lavorate se non viene realizzata la rete fognaria di San Valentino andrà sempre a fiume perché anche questo dobbiamo dire il fiume è un fiume inquinato ma immediatamente dopo il ponte di via Roma. Noi se tiriamo lo scarico da qui a piazza municipio arriva direttamente sul rio Palazzo. Allora anche questo una sana amministrazione deve essere benché il progetto è sovracomunale, benché il progetto non riguarda finanziamenti comunali ma soprattutto il progetto deve essere visto in un'ottica complessa e diversa. Noi ci dobbiamo attivare affinché non si facciano errori e ricadute sul territorio ma andando in crisi già una sezione fognaria sottodimensionata rispetto alla reale portata. Anche questo significa fare amministrazione, anche questo significa fare il bene del Paese. Ripeto, l'ambiente è il primo posto, l'ambiente salute sono i due primi posti. Ragionare in termini per combattere le micro discariche con un discorso anche di implementazione della videosorveglianza su quelle che sono tutte le note micro discariche sul territorio, dare l'opportunità anche aprire con il discorso dell'isola ecologica. Chi fa manutenzione in economia, viene l'idraulico, rompe il bagno, lo sostituisce. Oggi è un problema andarlo a ricapitare. Allora fare anche dei protocolli di intesa rispetto al normale rifiuto della piccola edilizia, della normale carpenteria che deve essere smaltito perché tutto questo poi porta inevitabilmente a quello che sono i vari cumuli di immondizie su tutto il territorio con un aggravio di spesa importante anche per la gestione delle casse comunali. Allora siamo arrivati alla fine. Questo deve essere il ragionamento fondale della nostra amministrazione, ambiente e salute. Grazie allora a Giovanni Cocca. Allora siamo arrivati in pratica all'appello al voto. L'appello al voto, sempre per il discorso d'alternanza, Giovanni Cocca e Giuseppe Ganfora. Avrete due minuti di tempo in questo caso. Abbiamo avuto la possibilità davvero di parlare di tutto. Tranquillamente se volete bere fatelo senza nessun tipo di problema. Nel frattempo io ribadisco che siamo in diretta su sarnonotizie.it, su radiobase.fm ma anche sulla redazione.eu come pagine pubbliche di Facebook. Quindi in audio video ci stanno guardando praticamente da là e poi anche su radiobase dalle 21 del giovedì 6 di giugno. Siamo dunque arrivati a conclusione. Approfitto per ringraziare le tante persone che davanti a noi ci stanno seguendo, vedendoci e magari ci ascolteranno nella giornata di domani per fare un ripassino di quello che hanno sentito. Speriamo che questo confronto abbia aiutato tutti a capire cosa fare poi nella giornata di domenica ma è il momento dell'appello al voto. Per Giovanni Cocca due minuti, le passo il microfono e poi faccio partire due minuti. Grazie. Eccoci qua. Allora io mi rivolgo a tutta la cittadinanza che ha dato già un'espressione di voto nell'ultima tornata, prima del turno di ballottaggio, dove si è visto che il 56% dei cittadini sarnesi ha bocciato l'amministrazione uscente. Quindi per me è un dato di fatto importante. I cittadini sarnesi hanno dato una loro valutazione rispetto a come sono stati gestiti e soprattutto come sono state ammartate avanti tutte le dinamiche amministrative. Quindi se l'amministrazione uscente ha grande difficoltà, soprattutto avendo i grandi titoli da Presidente della Provincia, Presidente dell'Unione delle Provinci Italiane e quant'altro, io parto dal presupposto che i cittadini hanno dato un loro valore importante a quello che è il voto ultimo di domenica. Allora il mio invito è rivolto a tutti coloro che hanno votato contro questa amministrazione a scegliere il cambiamento, scegliere il cambiamento della nostra forza politica, della nostra proposta politica. Il cambiamento che è rivolto a tutti i cittadini perché il sindaco Cocca sarà un sindaco di tutti, anche delle persone che non andranno a votarlo domenica prossima. Questo deve essere il senso, sempre ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, del buon padre di famiglia. Abbiamo avuto la fortuna di fare una campagna elettorale emozionale ed emozionante, abbiamo portato nelle strade l'innovazione di una nuova e diversa campagna elettorale che poi ci hanno anche copiato dopo perché poi le manifestazioni sono state fatte anche da loro e quindi anche questo è un momento di di grande risultato personale. Dopodiché andiamo anche a valutare il ragionamento che il candidato sindaco della nostra coalizione ha preso più voti di lista rispetto alle singole liste e diversamente dall'altro lato, benché in minimo, c'è uno scarto in diminuzio. Quindi anche questo fa parte del ragionamento che anche tra di loro non sono stati corretti e coerenti nel votare il loro candidato sindaco perché non tutti l'hanno votato in maniera certa. Allora anche questo per me deve essere il dato fondamentale di partenza e di riavvio verso la prossima torna elettorale. Per il cambiamento votate Giovanni Cocca. Eccolo qua. E allora i due minuti per Giovanni Cocca sono terminati, adesso ci sono i due minuti invece per Giuseppe Canfora. Vi ricordo che tutto quello che state vedendo lo potete vedere su radiobase.fm, su sanonotizie.it e la redazione.eu, sulle pagine pubbliche di Facebook. Giuseppe Canfora, due minuti per l'appello al voto. Prego. Io intanto ringrazio Radiobase che ci ha dato la possibilità di confrontarci su temi che riguardano la città di Sarno. Poi ringrazio tutti coloro che stanno qua in piazza ad ascoltarci. Noi il cambiamento lo abbiamo già attuato in questi cinque anni. Vi chiediamo semplicemente di continuare a migliorare. Ecco, per cui noi abbiamo lavorato sull'urbanistica, abbiamo lavorato sui lavori pubblici, abbiamo lavorato sulla sicurezza, abbiamo lavorato sulle politiche sociali. E sicuramente abbiamo migliorato di tantissimo l'aspetto e il volto di questa città. Calma, ragazzi, calma, 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 qua è un confronto democratico e civile, calma, 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 vi prego, calma, calma. Quindi voglio dire, questa città è visibile a tutti, è visibile a tutti. Per cui il mio appello è a tutti i cittadini di Sarno, perché così come sono stato il sindaco di tutti i cittadini di Sarno in questi cinque anni, continuerò ad essere il sindaco dei cittadini di Sarno. Per cui la mia persona è a disposizione di tutti i cittadini, così è stato per cinque anni, così sarà per i prossimi cinque anni. Auguro alla città di Sarno le migliori prospettive future e faccio un in bocca al lupo anche a dottor Giovanni Cocca. Grazie allora, ringrazio allora Giovanni Cocca, bocca al lupo, grazie a Giuseppe Canfora, bocca al lupo anche per voi. Aspetta, ho la mano, stringetevela qua davanti. Eccoci qua. Beh, è stato importante questo confronto, come dicevo prima, perché ha avuto la possibilità di chiarire alcuni aspetti che riguarderanno il vostro modo di lavorare. a tutti e due ovviamente l'augurio, soprattutto a Sarno, che si vada a votare. Ricordo che si vota soltanto domenica dalle 7 alle 23, allo scadere delle 23, poi si andrà a fare la conta e si vedrà chi sarà il nuovo sindaco di questa città. Detto questo, io ringrazio nuovamente Giovanni e Giuseppe, ringrazio ovviamente la redazione di Sarno Notizie.it e di Radiobase, ma anche della redazione.eu, Rossella Ligori, Jean-Louis, Enrico Marrazzo, Alessio Marrazzo e me, Antonio Gioele, e l'appuntamento su Radiobase prosegue come sempre col palinzesto. Il prossimo appuntamento per quanto riguarda le dirette, beh, chi vivrà, vedrà su Sarno Notizie.it, su Radiobase.fm e sulla redazione.eu. A voi tutti l'augurio di un'ottima senata. Ciao. Grazie, buonasera. Grazie. 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 Grazie.